La tragica sfida di youtubers, una drammatica conseguenza, muore un bambino di 5 anni. In un'era in cui i social media dominano le nostre vite e l'influenza degli youtuber e dei creatori di contenuti è in costante crescita, il confine tra intrattenimento e responsabilità diventa sempre più sottile. Stavolta però, un tragico incidente ha portato alla luce la necessità di riflettere sulle conseguenze delle azioni online e di agire in modo responsabile. I protagonisti di questa storia finita male sono i The Borderline, un collettivo romano di youtuber che ha accumulato una folta base di sequaci con i loro video assurdi e unici. Con un canale che conta 600.000 iscritti, hanno fatto della sfida e della provocazione la loro specialità. Alcune loro sfide includono 24 ore su una zattera, resistere nel ghiaccio, nascondersi in un castello medievale e vivere per 50 ore all'interno di una Tesla. Mercoledì scorso la sfida consisteva nel trascorrere alcuni giorni a bordo di un SUV Lamborghini e purtroppo stavolta è finita con un tragico incidente che ha portato alla morte di un bambino di soli 5 anni. L'incidente è avvenuto a Roma, in zona Casal Palocco. Una donna di 29 anni e i suoi due figli erano a bordo della loro automobile, una Smart. Il bambino di 5 anni è purtroppo deceduto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale più vicino. La bambina di 4 anni e sua madre sono state trasferite in codice rosso presso il Sant'Eugenio. Le persone a bordo del SUV sono rimaste illese e sono state portate in ospedale per controlli. Il conducente del SUV, Matteo Di Pietro, un giovane di circa 20 anni, è attualmente indagato per omicidio stradale. Sorgono domande anche sulla sua capacità di mettersi alla guida di un'auto del genere, dato il suo risultato positivo ai cannabinoidi. Gli altri coetanei presenti nell'auto facevano parte del collettivo di influencer, famoso per le loro idee estreme. La dinamica dell'incidente è ancora al centro delle indagini. Gli inquirenti stanno esaminando i dispositivi dei ragazzi, poiché si sospetta che le telecamere e i telefoni potrebbero averli distratti dalla guida. Un membro dei The Borderline, Vito Loiacono, ha rilasciato dichiarazioni sul suo profilo Instagram in merito all'incidente. Nel frattempo il profilo Instagram del gruppo è stato chiuso e reso privato. I The Borderline avevano l'obiettivo di replicare in Italia il successo di James Steve Donaldson, noto come MrBeast, un popolare YouTuber americano. Si è dibattuto anche sul fatto che il SUV Lamborghini sia stato noleggiato da un autosalone per la realizzazione di un contenuto promozionale da inserire nel canale YouTube dei The Borderline. L'autosalone, nel frattempo, la Skyline Rent, avendo ricevuto diverse minacce, ha rotto il silenzio sui social. E tra le altre cose, ha tenuto a precisare quanto segue. Il nostro codice della strada, nello specifico l'articolo 117, permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione. Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle autorità. Ma non siamo in alcun modo corresponsabili, o, peggio ancora, complici, di ciò che è accaduto, poiché il compito della nostra società è offrire servizi, il ruolo di educatore spetta ai genitori. Sicuramente, come è giusto che sia, il nostro problema passa in secondo piano, ma continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile. Nell'ultimo video pubblicato nelle stories di Instagram, il ragazzo che si trovava alla guida della Lamborghini al momento dello schianto, racconta che stava andando tutto bene, ma confessa, «E' da ora che non scendiamo e le mie gambe si sono atrofizzate». Poco prima, in un altro video su TikTok, da un altro ragazzo veniva mostrata l'automobile appena noleggiata. Dopo l'incidente, avvenuto mercoledì 14 giugno scorso, molte persone hanno deciso di far sentire la propria voce. Oltre ai testimoni che hanno portato quanto visto e sentito il giorno dello schianto e quello precedente, nel mare magnum dei social network sono stati in molti a prendere parola su quanto accaduto. Fra queste persone anche diversi influencer e youtuber, alcuni dei quali amici o collaboratori del gruppo che si sono espressi in solidarietà dei ragazzi, come i Pirlas e Capitan Blazer. Altri invece, come Riccardo Dose e Ciccio Gamer, sembrano essere più critici. Questa tragedia ha scosso profondamente non solo la famiglia coinvolta, ma anche la comunità online e la società nel suo complesso. Ha sollevato importanti questioni sulla responsabilità degli influencer e delle piattaforme di social media nella creazione e nella promozione di contenuti che possono mettere a rischio la vita delle persone. Per la ricerca disperata di un like, queste sfide sono sempre più esagerate. C'è chi si filma mentre guida contro mano, chi resta sui binari fino all'ultimo secondo, chi attraversa contro mano un fiume di macchine. Insomma, la situazione sembra ormai fuori controllo. La logica che c'è dietro, con l'obiettivo di macinare più quattrini, sta spingendo gli influencer a compiere azioni non solo pericolose, ma che oltrepassano la legalità. E con questa triste vicenda abbiamo toccato il fondo. L'obiettivo non è demonizzare gli youtuber o limitare la libertà di espressione, ma piuttosto promuovere una cultura online più sicura e responsabile. Le sfide e le provocazioni sono diventate un fenomeno di tendenza, spesso copiando modelli americani come in questo caso. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la ricerca del click e dei follower non può e non deve andare oltre a discapito della sicurezza e del rispetto per la vita umana. È importante quindi una riflessione collettiva e arrivare ad azioni concrete. Gli influencer devono considerare le conseguenze delle loro azioni e agire in modo responsabile, tenendo conto dell'impatto che hanno sui loro spettatori, in particolare sui giovani. Le piattaforme di social media devono adottare politiche rigorose per monitorare e rimuovere contenuti pericolosi o illegali, proteggendo così la comunità online. I genitori e gli spettatori, d'altra parte, devono essere consapevoli dei rischi associati a certi contenuti e fare scelte informate. Bisogna rimanere vigili nella supervisione delle attività online dei propri figli ed educarli sugli effetti delle scelte che fanno. È necessario dunque un impegno collettivo per promuovere una cultura online sicura e responsabile. È tempo di agire affinché la nostra passione per l'intrattenimento e la creatività non mettano a repentaglio la vita e il benessere degli altri. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo costruire un ambiente online sicuro per tutti. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!